proseguendo nella nostra disanima disanima disamina insomma nella nostra indagine su le varie facce dell'amore e su come se non riconosciuto finisce per ostacolare la nostra evoluzione vediamo la corrispondenza tra amore e potere così istintivamente ci viene da pensare che il potere e l'amore siano totalmente in contrasto dove ci sia l'uno non ci sia l'altro ci sono anche delle frasi mi sembra di ricordarne uno di chaplin su questo e quindi ovviamente uno dice ma l'amore è l'esatto opposto del potere questo se noi non comprendiamo la vera natura dell'amore e del potere un conto è l'attaccamento al potere un conto è il potere esercitato sugli altri o contro la volontà di qualcuno ma il potere personale c'è la capacità di esprimere le proprie potenzialità le proprie qualità le capacità di realizzare se stessi è un potere sano e nasce dall'amore nasce proprio da quella sorgente di cui si parlava che è come l'acqua che è come la luce che è come il seme quindi da questo dalla vera natura del nostro essere che ci anima quindi della vera natura dell'amore che emanando e salendo potremmo dire lungo la scala evolutiva e quindi lungo la scala dei comportamenti e delle qualità che mettiamo nel mondo una volta superata la dimensione della sopravvivenza grazie a qualità come la determinazione una volta superata diciamo così il livello del piacere grazie appunto alla all'amore per se stessi si arriva al potere quindi quanto più noi siamo radicati in contatto con noi stessi e rispettiamo i nostri ritmi quanto più quello questa emanazione assume le forme del potere cioè possiamo esprimere chi siamo possiamo trovare il giusto posto nel mondo possiamo realizzare quale che sono le nostre risorse e qualità cioè possiamo portare nel mondo l'amore nella sua versante di manifestazione concreta nelle azioni il potere di di fare del bene è un potere il potere di aiutare qualcuno il potere di cambiare il mondo in meglio a che fare con il potere appunto con la capacità realizzativa che è una faccia dell'amore ma se noi ogni volta che ci troviamo di fronte al momento in cui dobbiamo esercitare il nostro potere personale ci è arrestiamo ci sentiamo in colpo ci sembra di essere egoisti o ci sembra di non esercitare meglio di non seguire sufficientemente la via dell'amore ecco che allora ci facciamo un autogoro ci facciamo un tramello quindi non temiamo il potere perché tra l'altro se noi non realizziamo chi siamo quello che succede è che quello che succede è che ci sentiamo inferiori ci sentiamo in colpa e nasce il giudizio l'invidia la gelosia nascono i pensieri cattivi tra virgolette il retro pensiero sugli altri sul mondo il senso di rivalsa o il senso di ingiustizia e allora cominciamo a proiettare sugli altri quello che non riusciamo a realizzare ci sentiamo non amati non voluti non ascoltati è semplicemente l'amore che non mettiamo nel mondo l'amore per noi stessi e per le nostre idee per quello che crediamo essere giusto e allora forza potere personale io riesco io voglio fermezza nell'intento anche se torniamo sempre a questi momenti anche se ci sentiamo in qualche modo discriminati o in minoranza o esclusi il potere ancora una volta non è reagire il potere è esprimere con amore con compassione quello che crediamo con comprensione verso l'altro non essere complici però avere chiarezza con lo stesso amore con il quale amiamo la persona amata amiamo i nostri figli dovremmo amare le nostre qualità le nostre risorse dovremmo amare quello che sentiamo dentro essere giusto e agirlo esprimendo il nostro potere fino in fondo dai che ce la facciamo